e leggeremo il resto dell'esito della Capi Gruppo. Come vuole Presidente, grazie di avermi concesso la parola. Noi non faremo come le altre volte una protesta formale rispetto a questa fiducia perché io credo dobbiamo rispettare alcuni milioni di cittadini italiani che in queste ore 10.574.000 cittadini italiani hanno votato il Movimento 5 Stelle. Un movimento che si è ridotto a pietire per giorni un incontro con il Capo del Governo con un penultimatum perentorio rispetto a posizioni chiarissime, nettissime su grandi temi e grandi battaglie che avevano presentato in queste ore come l'ultima trincea e poi due pacche sulle spalle e si torna in aula ad annunciare l'ennesima fiducia. Un risultato c'è di questa ennesima fiducia. Ci teniamo il Ministro d'Inca ancora nella sua posizione di Ministro del Movimento 5 Stelle perché le minacce del Movimento 5 Stelle terribili di uscire dalla maggioranza se non si fosse proceduto al rispetto dei lavoratori che avevano creduto nel 110 delle imprese sul termovalorizzatore di Roma sono risultate un'altra grande presa in giro. Per rispetto dei 10.574.000 elettori che vi hanno premiato con un consenso che state tradendo terremo i toni bassi perché queste persone non si meritano il trattamento che gli avete concesso. Ancora tra loro qualcuno spera in un colpo di reni, in un fatto in tutta la legislatura che possa dire che abbiamo sbagliato ma ancora un po' di dignità questi ce l'hanno. Anche oggi il Movimento 5 Stelle, Conte in particolare, si è dimostrato quel soggetto che noi avevamo intravisto già al momento della sua nomina e per quello non entrammo nel Conte 1. Abbiamo avuto conferma durante il Conte 2 di quello che valeva e adesso lo vediamo anche in azione come riferimento di quello che fu il più grande partito italiano dal 2018. Quindi prendiamo atto ancora una volta dell'assenza di serietà, dell'assenza di capacità di questo Governo di dare al Parlamento la sua centralità con discussioni approfondite. Eravamo disponibili a ritirare gran parte dei nostri emendamenti per poter discutere in quest'Aula. Evidentemente questa maggioranza è terrorizzata da qualsiasi provvedimento perché non hanno i partiti che la compongono granché in comune se non la voglia di portare avanti questa legislatura il più possibile e tenersi inchiodati a portrone che probabilmente, e io dico per fortuna delle istituzioni, molti di loro non potranno rioccupare. Grazie! Grazie!